Ora vediamo in che modo possiamo dare delle animazioni diverse per l'in e per l'auto di un testo. Cominciamo con l'aggiungere un primo animatore, andiamo su anima e gli diamo posizione. Posizione ha un animatore 1 con un selettore di intervallo, per cui noi gli diamo un inizio, gli diamo una fine che mettiamo a 100, stopwatch attivo quindi rimangono i keyframe, a questo punto ci mettiamo a metà per vedere quello che stiamo facendo e su posizione andiamo per esempio a spostarci fuori, in maniera tale che le nostre lettere caschino dentro. Ora possiamo a quest'animatore aggiungere per esempio una sfocatura come abbiamo già visto, e sfochiamo solo l'asse verticale, quindi avremo le lettere che spiovono dentro un po' sfocate e qui compare la frase sopra perché questo viene sfocato e quindi entra dentro, per cui io a questo punto vado a spostarlo più su, vado a spostarlo più su in modo che sia fuori, che non lo voglio vedere prima che entri. E ok, così entrano come voglio io. A questo punto possiamo anche vedere le avanzate e potremo anche decidere di animare per parole, in questo modo entrerebbe la parola intera. Oppure potremmo animare per riga, entrerebbe la riga intera, ma rimaniamo pure per caratteri. Che cosa succede ora? Se io dopo che ho fatto la mia animazione voglio far uscire questo testo in una maniera diversa con un altro animatore, quello che devo fare è andare a selezionare il mio livello e dargli un nuovo animatore, che potrebbe essere per esempio la scala. Qui abbiamo animatore 2. Un animatore 2 ha un nuovo selettore di intervallo, in questo caso è la scala, che io posso mettere a 0. E posso quindi partire da 100, quindi gli do un inizio, mi sposto qualche keyframe più avanti, gli do un secondo keyframe, e vado a 0. In questo modo, quello che ho ottenuto è questo. Posso anche gestirla diversamente, ovvero posso anche utilizzare la fine, quindi posso anche usare la fine, farla partire da 0 e farla arrivare a 100. In questo modo ho il testo che esce nella direzione, diciamo più logica. E questo è come si anima l'entrata e l'uscita dello stesso livello, con due animatori diversi. per la fine. E questo è come si anima l'entrata, E questo è il punto di vista, è come un'altra cosa. Per la fine. Grazie a tutti.